Come questa l'avemo fatte tutte, come fanno fare la parigi ragazzi. Vai che c'era qua, non so. Allora, se nel video non si capisce stiamo per fare una cazzata. Attacca subito queste cazze. Ma che è da noi la retta? Ragazzi stiamo a buttare dentro il precipicio eh. Aspetta che si levano con l'ultima mezza della strada, se non li favo. Occhio, pronto? Vai 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 vai, vai, vai. Vai. Questo è un fosso della madonna. E va faccunza qua. Allora, questo è il tondachilometri. Stai registrati. Scendi qua piano piano per la vita destra. Che tu sta? Che tu sta? Che tu sta? Che tu sta? Eh, dopo tu guardi ci rinasci. Ahahahah. Più slavico qua. Che tu guardi quando arrivi là. Alcetito. Poi guardi qui lì gli un po' mi metto tutto. Poi da là dai. Prima avevate apporti. Non arrivano la bolla. Allaima finita. E' fuoco. Buono ciao